Volete fare uno scherzo a un vostro amico ma non sapete come? Bene, allora vi presento la bomba a tempo! Il funzionamento è molto semplice, una volta che la fornace riceverà un cambiamento di stato, la TNT esploderà. Per poterla creare, quello che dobbiamo fare è mettere questi blocchi in questa sequenza. Prima di tutto, la fornace con dentro quello che dobbiamo cuocere, poi una TNT a fianco, un pezzettino di redson, una leva collegata al pezzettino di redson, un'altra leva di fianco, attiviamo la prima e togliamo l'altra. E a questo punto, appena la fornace finirà di cuocere quello che sta cuocendo, esploderà la TNT. E un'ultima cosa, non corrispondo a dei danni che può provocare la vostra amicizia.